Un settore sempre più in crisi, quello turistico ad Agrigento, una situazione sempre più difficile da gestire vista anche la marginalità geografica ed una seria carenza infrastrutturale di cui è caratterizzata la città. A ciò si aggiunge anche la problematica dei rifiuti che negli ultimi periodi sta penalizzando non poco la città dei tempi suscitando indignazione da parte dei turisti. Inoltre i servizi che Agrigento dedica a quest'ultimi sono assolutamente al di sotto degli standard qualitativi delle altre città a vocazione turistica. Lo dimostrano soprattutto l'assenza di una linea di trasporto urbano che porti i visitatori da un monumento all'altro e agli utilissimi servizi di trasporto serali e notturni assenti del tutto. Oggi per discutere di questa seria problematica che potrebbe compromettere seriamente lo stato economico di Agrigento Convindustria ha convocato una conferenza stampa. Gli imprenditori che hanno fatto investimenti nell'indotto del turismo costituiscono un valore aggiunto per il territorio perché creano reddito e benessere sociale attraverso gli occupati e le relative famiglie. Per poter continuare a fare ciò hanno bisogno di normalità e la normalità vuol dire assicurare alle strutture produttive servizi diretti che in troppi casi mancano informazioni utili per i clienti visitatori della città o dei territori e soprattutto nell'istituzione e nella politica avere contezza che un'impresa per poter andare avanti ha bisogno di attenzioni. Oggi gli imprenditori non chiedono né aiuti né sussidi chiedono la normalità che in troppi casi manca. In questa drammatica situazione diventa davvero difficile pensare di poter investire rischiando di perdere tutto. La situazione della marina di Agrigento di San Leone non è delle migliori quindi i turisti lamentano notevolmente il degrado della marina e non riusciamo a rilanciare né i soggiorni estivi tutto sommato e tanto meno quelli nei periodi di media stagione quindi non riuscendo neanche a vendere l'estate come si fa a rimanere aperti tutto l'anno. I tempi debbano essere brucianti. Noi facciamo la richiesta, si fa la conferenza dei servizi e dopo 30 giorni dobbiamo avere l'autorizzazione. Molte operatori abbiamo perduto, non abbiamo potuto partecipare a un bando per il turismo per migliorare le nostre strutture perché queste autorizzazioni visto che il piano del parco non è approvato non le abbiamo potute avere pertanto abbiamo perduto pure i soldi. Noi operatori abbiamo i progetti pronti per far sì che i nostri albergeti possono essere migliorati. Migliorati che significa farli più belli, rendere più belli in modo tale che il turista che viene da noi resti contento anche in termini di tariffe, una volta che offriamo servizi migliori e li possiamo innalzare.